Mensa scolastica, polizia locale e sicurezza. Tre tematiche per tre obiettivi, quelli messi a punto da Mirko Malcangi, candidato a consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative di Andria, a sostegno del candidato sindaco di centro-sinistra Giovanna Bruno. Uno degli argomenti più sentiti per la città federiciana è la questione mensa scolastica, appunto, dopo la decisione da parte della gestione commissariale di concedere una concessione di cinque anni, poi aggiudicata dalla ditta pastore SRL. Una scelta scellerata di questa gestione commissariale, che però chiaramente rinviene dai buconi di bilancio del passato, è quella di aver affidato la concessione della mensa scolastica per cinque anni. Questo è uno di quei casi in cui non si sarebbero dovuti creare dei vincoli così lunghi e anziché cinque magari limitare un anno. Quindi la prossima amministrazione, auguriamoci guidata da Giovanna Bruno, dovrà di certo metter mano alla questione mensa scolastica, perché se l'anno scorso le famiglie avevano difficoltà ad acquistare i buoni a tre euro, noi non capiamo come si sia potuto pensare che a settembre le famiglie acquistire i buoni a sei euro, delle scelte folli e quindi sollevare il problema ma fornire anche delle alternative. Qualora non si possa risolvere la situazione, chiaramente vigilare con l'ausilio delle famiglie sulla qualità del cibo, perché questo gestore è stato fortemente messo in discussione in passato delle famiglie per la pessima qualità del cibo. Spazio alla sicurezza, negli ultimi mesi, già prima del lockdown per l'emergenza sanitaria, la città di Andria è caratterizzata dalla presenza di biciclette elettriche di ultima generazione che causerebbero disagi a pedoni e auto in strada, una vicenda già sollevata in passato ed ora rimarcata da Mirko Malcangi. Inevitabile non pensare al gravissimo incidente sull'Andria Barletta in cui hanno perso la vita tre giovani ragazzi a bordo di quel mezzo. Per far fronte a questa tematica servirà un rinforzamento dalla polizia locale di Andria per un maggiore controllo in città ed anche qui i disagi non mancano, sei autovetture del corpo di polizia locale di Andria. Sarebbero a rischio? Noi cittadini, perché siamo tutti comunque cittadini, siamo costretti a scansare dei giovani che sembrano non avere nulla per la testa e sfrecciano contro senso ad altissima velocità su queste bici elettriche. Il corpo di polizia locale va rinvigorito e purtroppo per quelle che sono le notizie dell'ultime ore pare che sei auto della polizia locale non sono state pagate e quindi il fornitore li ha chiesti indietro. Quindi cosa rispondiamo a chi oggi è in prima linea per le strade della nostra città a garantire la sicurezza? La prossima amministrazione guidata da Giovrana Bruno dovrà fortemente intervenire rimpolpando l'organico perché è un settore sotto organico, dando più considerazione a quegli operatori che gestiscono una tematica molto delicata per quella che è la gestione di una pubblica amministrazione. Il centro-sinistra, sottolinea Malcangi, è l'unica alternativa ad una gestione del passato che ha portato a danni considerevoli per il comune di Andria. Un centro-destra spaccato in tre non può che spianare la strada ad un centro-sinistra compatto che si è ritrovato attorno alla figura di Giovanna Bruno e che chiaramente ha le idee chiare su quello che vuole fare non nei prossimi cinque anni perché i primi cinque anni serviranno a mettere in piedi l'operazione verità, le bugie che ci hanno raccontato sono tantissime, quindi noi chiediamo fiducia non per cinque ma per dieci anni, perché i primi cinque operazioni verità, i secondi cinque a ricostruire, a immaginare, a sognare una città più bella di quella in cui viviamo.